ciao buongiorno buongiorno a tutti buon pomeriggio ora vado in un parco qua vicino casa vado alla scoperta dei parchi di mofelcone che dire ora aspetto il corso di fotografia di videoblog devo fare io il corso non scherzo ok mi riposo un pochino sono qui il parco il parco delle membranze non un altro parco ho detto boh vado a fare questo corso di fotografia vediamo come va c'è verità il fotografo la conosco speriamo che sia carino sia sicurevole perché sennò già con i tipicoli mi devo dormire spero che siete bene auguro un buon pomeriggio saluto tutti sotto alberto sant'atonella nardini per esser costruita metto dimitri è stato tutto notte eccetera eccetera che se non fate la lista lunga che domani vorrei dare un bel letto saluto la valeria da mezza del corso che saluto ci sono qui che ti aspetto ora uno qua sotto la silva pega sotto l'amico che mi guarda mi va via casparisce apparisce apparisce ora carta allegri e faccio sparizione apparisce 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 arriva ancora devo abituarmi amici miei vi auguro un pomeriggio vi chiedo ogni volta iscrivetevi al canale ciao paolo buonasera buongiorno buon pomeriggio spero che sei bene un abbraccio a te stanno 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 prendendo il letto quindi che mi cammino un pochino perché finalmente viene viene l'abbiocco e dopo è dura eh poi ormai la fermata dell'auto di fronte dopo andare a casa spero che state bene vi auguro una buona buona serata un grande abbraccio fate i bravi pensate sani come dice marco valleggi sono con la sua amica di saluto anche lui non ci ero come amico di facebook ve lo saluto saluto dario augurzo quarto che è un mio amico di youtube la segue quando fai i cartoni la parodioli benji e vabbè forza e coraggio andiamo in passaggio un abbraccio vi auguro un buon pomeriggio adesso vi riposo un pochino dopo faccio questo corso spero che non sia la pizza ma sicuramente lei è brava spiega bene dopo vi tirò corrente la prossima diretta che farò che ci accorgo troppi oggi non mi abbiocco che mi viene su boh amici mie vado vi auguro una buona giornata buona buon pomeriggio fatti bravi sotto claudio ravelli e tutti voi e tutti gli altri che mi seguono mi conoscono un abbraccio bacio e la prossima fatti bravi iscrivetevi ciao